Juan, allora la prima dall'inizio, da titolare, innanzitutto dimmi quando l'hai saputo e che sensazioni hai avuto quando il mister te l'ha comunicato? Bene, l'ho saputo ieri, mi ha detto, era un pochino nervoso, ma poi quando gioco la partita come si va, capito? È bene, dai! Come ti sei trovato in campo in una partita complicata nel primo tempo per l'Arezzo? Difficile, veramente difficile, ma io mi ho giocato penso bene e mi sento bene, non ti dico la verità, partita difficile come ho detto prima, ma 1-1 una merda il pareggio, ma va bene. Infatti proprio quello, la delusione per non averla portata in fondo quando sembrava che ormai il peggio fosse passato, no? Cosa di calcio così, ma la squadra per me l'ha fatto troppo bene, è una squadra difficile, il campo di loro, ma bene, la squadra per me l'ho sentito bene. Di cosa ti aveva chiesto il mister da un punto di vista tattico, cosa dovevi fare là davanti e ri da solo con Gaddini e Pattarello esterni all'inizio della partita? Mi ha detto che stare tranquillo, di fare lo che faccio in allenamento e poi niente, mi ha detto confianza, confidenza e fare tutto nel campo, è così, il calcio. Che tipo di bilancio puoi fare finora della tua esperienza ad Arezzo? Tu l'anno scorso eri in Calabria, alla Mezzia, poi a Reggio Calabria, insomma come ti stai trovando qua? No, troppo bene, la squadra e il compagno mi hanno trovato benissimo, mi sento bene, l'allenamento facciamo duro, bene, bene, veramente, ti posso dire, mi sento troppo bene. Grazie a tutti.